Ma io voglio... Ma il 99 era Marco? Ma no, ma no, ma che fa no? Ma no, ma no, ma no, allora, 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 a questo punto cosa succede? Ma non è possibile! Appunto, il 66 degli italiani, di voi, sono 15 parlamentari su 1040, perché? Perché assieme avevano militarizzato il Parlamento, se non foste in più anche dei cafoni stronzi. Ma che abbiamo fatto? Hai distrutto lo studio! Hai distrutto lo studio! Hai distrutto lo studio, roba da chiamare gli avvocati! Sono certo che questa notizia che gli ho dato, quello che era accaduto nel 99, questa trasmissione, con questa data, passerà alla cronaca di Italia, per dimostrare a che punto voi che pure vi siete formati come me nello stesso modo, Oggi siete a tal punto disperati che assolutamente non volete parlare... Ma noi vogliamo parlare a modo nostro, però, non a modo tuo! Sono le 19.55, io al 59 vado... No, ma adesso abbiamo la pubblicità, peraltro, per forza dobbiamo andare via... Eh, guarda, la pubblicità sarà l'unico momento di riposo per gli ascoltatori... Beh, certo, dopo le tue palline, sicuramente... Non siamo riusciti a interloquire, già hai fatto un fiume... No, ha spaccato tutto, cioè io qua mi ha fatto male la mano, cioè mi ha ferito, io chiamo l'avvocato, te lo dico, eh... No, ma adesso ti spacco anche la faccia, ma sei impazzito... Chiama anche l'avvocato per la faccia... Ma sei impazzito, cioè sei veramente impazzito... Ma no, sono rinsalito più che mai... Pubblicità, pubblicità... Perché, perché cerco di farvi capire, per un istante, che si sta parlando di cose tragiche per la grande maggioranza... Se non eleggono l'Abonino, l'Italia va avanti lo stesso, hai capito o no? Una situazione tragica per la maggioranza delle italiane e degli italiani... Se non eleggono l'Abonino a Quirinale, andiamo avanti lo stesso, non succede una tragedia se non eleggono l'Abonino a Quirinale... Questo deve essere chiaro, non è che se non eleggono l'Abonino a Quirinale è finita la democrazia in Italia... Questo mi sembra chiaro, no? Vedete, è finita, quindi lui difende la democrazia che esiste... No, ma no, non è quello, dai... Avete capito, tutti voi morti di fame, eccetera... Hai spaccato tutto, dai... Ma voi morti di fame... Hai spaccato tutto, dai... Ma perché morti di fame... La zanzara... Zanzara, zanzara, zanzare... Siamo qui, la zanzara, 80024... Siamo qua, siamo qua... Si è consentito, eh... Si è consentito... Se possiamo continuare... Se possiamo continuare... Adesso spacca lo studio, fuma pure il sigalo... Adesso pure il sigalo... E dice grazie, grazie un cazzo, scusami però... Io... È incredibile, guarda... Cioè, uno fa una domanda... Una... Mette in... Non dico... Cioè... Contesta il fatto che magari l'abbonino è così popolare nel paese... No, questo può anche essere che lo sia... No, può anche contestare... Cioè, non è che non è ammessa la contestazione su questo, no? E c'è la follia... Comunque, insomma, siamo qua... Eh... Pannella, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Sono... Sono le 20 e 0... Sono le 20 e 30 secondi... E lei deve andare via... No, io quello che dirò... Vedremo... Sì, ma non è che sei... Ti conto... Ah... Delle parole che hai detto... Ma che c'entra le parole? Ma che c'entra? Poi... Allora, io ho da fare... Io ti voglio portare in tribunale... Una dichiarazione... Datemi la nota del culinale su un'unità... Datemi la nota su un'unità del culinale... Allora, voglio dire... Mi fai fare un appello... Mi fai fare un appello... Ma che appello? Mi fai a Radio Radicale gli appelli... Non è un appello di un minuto... C'hai una radio a disposizione... Ma non è radio un'unità... Alla comunità... Alla comunità penitenziaria... Ma non me ne frega un cazzo... Ma quello no... Dai... Non me ne frega un cazzo... No, no, no... No, Marco... Ma perché? No... Vabbè... A te... Non c'è... Ma... 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 Scusa... Ma no... Ma io dico... Ragazzi... Mandate un po' di musica, dai...